Due cose stanno a cuore ad Amazon, i tempi di consegna rapidi e la relativa spesa. Per abbassare quest'ultima, il gigante americano dell'e-commerce si prepara ora a creare una vera e propria flotta di Pony Express a quattro ruote. In una lettera, la società ha proposto agli autisti di Amazon Flex, una sorta di Uber per le consegne ai abbonati del servizio premium Amazon Prime, di gestire anche i pacchi normali. Una mossa che le consentirebbe di abbattere notevolmente i costi, ma che di sicuro non piacerà ad UPS, FedEx e ai tanti servizi di consegna locali che impiega attualmente.